Ma buongiorno recuperatrici e recuperatori di romanzi, di film, di fumetti dal passato. Prima di iniziare a parlare di questo fumetto straordinario, vi ricordo che questo video fa parte di una playlist qui sul canale che si chiama Fumetto o Graphic Novel, che dir si voglia, ed è proprio da questa distinzione tra fumetto o graphic novel che iniziamo, perché storicamente, nella storia del fumetto che si insegna nelle università o nelle scuole di fumetto, c'è una data che sarebbe quella di nascita ufficiale del graphic novel, cioè il primo autore che dice io non faccio fumetto, faccio graphic novel, è un americano, un genio del fumetto, il grande narratore Will Eisner, che nel 1978, con questo fumetto, con questo graphic novel, scusate, che comunque è un fumetto, un contratto con Dio, appunto, fa un salto di coscienza e dice, questo qui si differenzia dal fumetto seriale, il fumetto da Edicola, quindi dall'Uomo Ragno, da Batman, da Superman. Questo qui non esce in Edicola, questo qui esce direttamente in libreria, è una storia autoconclusiva ed è appunto graphic novel. Se poi, in realtà, andiamo ad essere pignoletti e vediamo che questa non è una storia unica, sono quattro storie brevi, il discorso potrebbe complicarsi e non finire mai. Invece noi vogliamo semplificarci e finire, o meglio iniziare. Iniziare parlando di questo fumetto abissalmente bello, una ballata del mare salato di Ugo Pratt, che io ho, parlando di Quisquigli, in due versioni, una versione ricolorata da Edicola e un'altra versione da Edicola che però ho ricopertinato e rititolato La ballata del mare salato di Ugo. Ecco, in realtà, appunto, essendo questo qui colorato, non so da chi, se qualcuno di voi sa chi ha ricolorato queste edizioni qua, della edizione della Gazzetta dello Sport, se qualcuno lo sa, me lo può scrivere in un commento, invece questo qua vede lo splendore del bianco e nero bellissimo di Ugo Pratt, com'era originariamente. Allora, si diceva, graphic novel o fumetto, la ballata del mare salato, in realtà, per i critici italiani, per noi italiani, insomma, appassionati di fumetto e di illustrazione e così, noi, no, 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 non noi nel senso anche io, diciamo, i critici pongono la nascita del graphic novel, quindi antecedente al Contratto con Dio di Will Eisen, di cui parlavo poco fa, per dire che è nel 1967, con La ballata del mare salato, che nasce il graphic novel. E, se ci soffermiamo sulla parola, ancora un cicinino prima di iniziare a parlare proprio del fumetto in sé, mentre il Contratto con Dio, vi dicevo appunto, sono comunque quattro storie brevi, invece Una ballata del mare salato è una grande storiona, con una foliazione anche molto lunga, perché nel 1967 fare 250 pagine non era affatto poco, non era affatto uno scherzo, cioè era una storia che andava oltre tutta la tradizione editoriale, perché non era stato mai, infatti non era mai stato concepito un fumetto così lungo, quindi novel, quindi romanzo, nel vero senso della parola. Ok, quindi, cosa succede? Con Una ballata del mare salato, Pratt semplicemente fonda un archetipo dolcissimo, è perché è una pietruzza miliare assolutamente imprescindibile della narrazione contemporanea. Allora, la storia comincia con una particolarità, vi faccio vedere la prima pagina, e c'è un testo narrante, qui vi vado a leggere due righe, non tutto, giusto due righe per darvi un accenno, così siamo al mare, nel mare, in mare aperto, e questa voce narrante dà voce all'oceano, e quindi è l'oceano a parlare, e questa è una cosa molto interessante. E quindi scrive Ugo Pratt, Sono l'oceano pacifico e sono il più grande di tutti, mi chiamano così da tanto tempo, ma non è vero che sono sempre calmo, a volte mi secco e allora do una spassolata a tutti e a tutto. E poi va avanti, ok? Quindi, un approccio molto letterario, che probabilmente non si era mai visto così nel fumetto italiano, ok? Ecco, allora, due linee proprio di accenno alla trama, anzi, prima di fare un accenno alla trama, vi dico che Corto Maltese, appunto qui è la prima volta che appare come un personaggio, ma non è il protagonista assoluto. Qui, in questa storia, i personaggi sono vari, quindi Corto Maltese è uno di questi, fa la sua apparizione, tra l'altro la prima volta che appare, appare da davvero anti-eroe, perché compare dopo poche pagine all'inizio, adesso ve lo faccio anche vedere un attimo, crocifisso, crocifisso è legato a una... a questi legni galleggianti, appare così Corto Maltese nella sua prima... ecco così, così, crocifisso, e che sta naufragando. Quindi, appare con i postumi di una tragedia, di un grosso guaio che gli è capitato, ok? Questo modo di far apparire un personaggio, e solo in una storia corale, e solo successivamente estrapolarlo, e dedicargli una serie, tutta a lui, per esempio, a un grosso parallelo con un altro grandissimo autore italiano, che è Guido Crepax, l'autore di Valentina, e... vorrei raccontare giusto una piccola cosina, nel senso che anche Valentina nasce così. Le prime storie vedono Valentina come coprotagonista, assieme a tanti altri personaggi di delle storie, dove in realtà il protagonista è un uomo, un personaggio chiamato Neutron, e successivamente Valentina viene, entra più sotto la lente di Crepax, che appunto si dedica a lei, e la fa diventare protagonista assoluta di varie storie. Ecco, va bene, giusto per dire questo parallelismo, forse è un modo più italiano, che non magari americano, di intendere la narrazione, però che rimane ancora... parte della nostra tradizione è molto interessante. Ok, un accenno snellissimo sulla trama di La Ballata del Mare Salatieddu. Praticamente siamo nell'oceano Pacifico, si diceva, c'è una coppia di fratello e sorella, figli di una famiglia molto borghese, che sono stati rapiti, e quindi c'è un tentativo di richiesta, di riscatto, ecco. Corto Maltese sarà uno dei pochi personaggi dalla loro parte che si muoverà per cercare di farli uscire sani e salvi in questa vicenda. Poi i personaggi sono tanti, tante cose si mescolano, una guerra navale, comunque ci spostiamo di scenari tra queste navi, queste imbarcazioni, oppure spiagge dolcissime dei Caraibi. E quindi è appunto una storia che vede il mescolio, la gestazione di tanti personaggi. Ecco, più di così non vi dico, perché poi la grandezza di Pratt è quella del tenere in equilibrio da grande autorone i momenti di avventura con i momenti di introspezione. Detto questo, prima di farvi vedere qualche particolarità, ok? Vi dico che ci sono delle citazioni che... Ah, no! Prima ancora delle citazioni. Prima ancora di questo. Altra piccola novità, novità, scusate, notizia storica. Si diceva in 1967 questo è il primo vero graphic novel, ma nello stesso anno, curiosamente, parallelamente a Pratt, un altro grande autore italiano, Guido Buzzelli, disegna un graphic novel, anche lui, che si intitola La rivolta dei racchi, che ha tutti altri toni, molto più di satira, molto pungente, però, quindi, nel 1967 in Italia siamo 40 anni avanti rispetto a quello che viene fatto nel resto del mondo. Ok. Ora che ci siamo detti bravi, siamo orgogliosi, possiamo andare avanti. Quindi, una ballata del mare salato vede al suo interno un po' di citazioni letterarie. Adesso ve le faccio vedere due al volo. Comunque sono sempre le citazioni che, come dice Umberto Eco, in senso intertestuale, c'entrano sempre con il mare, perché, per esempio, qui abbiamo uno dei ragazzi rapiti che legge, qui non so se si può vedere, legge la ballata del vecchio marinaio di Coleridge, e qui abbiamo, poco più mai, con sua sorella, con una serie di libri, e si leggono i titoli dei romanzi di Melville, T.P., O.M.O., che sono i libri che scrisse prima di Moby Dick, e poi anche, appunto, il Moby Dick. E in altri punti della storia compaiono questi romanzi di Melville, quindi Melville, grande riferimento letterario per Pratt. Vi faccio vedere, ora, un paio di cose. Allora, cento, sì, ecco, per esempio, un'idea grafica molto bella, Corto Maltese cade in acqua, cade in acqua, ed ecco che abbiamo qui questa, questa visione subacquea, dove, praticamente, le macchie nere sono usate per creare quegli effetti di luce filtrata dall'acqua, e quindi, chiaramente, non essendoci il colore, però questo è un modo molto intelligente, moderno, ancora molto forte di Pratt, di alludere a questo, a questo, a questo vibrio dell'acqua, che poi si espande anche nella pagina, nella pagina dopo, ecco, quindi, una straordinaria, straordinario, scusate, equilibrio tra, in un certo senso, astrattismo, perché, se lo decontestualizziamo, è quasi astrattismo, e però, se sappiamo che cosa è successo, è un modo molto interessante di rappresentare la realtà subacquea, questo è un esempio, poi c'è, c'è, a pagina 200, un punto, un punto, che è stato poi citato e riproposto da tanti altri fumettisti successivamente, che è questo qui, abbiamo questo, questo dialogo, dove c'è un passaparola, è un passaparola, dove però non si vede, appunto, non ci sono i testi, quindi è proprio l'assenza dei testi, la forza di questa immagine qui, ora vi faccio vedere un altro autore che ha citato questo, esattamente questa cosa qui, che è Paolo Bacilieri, in questo fumetto qui, che è una biografia dello scrittore Emilio Salgari, non l'ho ancora recensito, ma ne parlerò molto presto, prestissimo, e abbiamo esattamente questa cosa qui, la citazione è chiara, ed è in questo caso qui il passaparola, che si dipana per la morte, appunto, di Emilio Salgari, che in quel momento lì era un un personaggio amatissimo dal popolo, ecco proprio, quindi, per questo è che si parla di una barata del mare salato come di pietruzza miliare, soda di idee, idee che riverberano negli anni, e che poi vengono riprese, appunto, ma scusate, ma scusate, ma la sintesi sfrenata di Hugo Pratt, cioè, 1967, questo è un fumetto che sembra arrivare dal futuro, il segno di Pratt è assolutamente una meraviglia, vediamo 251, vediamo, 251, cosa mi ero segnato, 43, no, ho sbagliato, riesco a fare sempre un po' di confusione, spero che mi perdonerete, c'è questo punto, che in realtà ve lo faccio vedere proprio perché mi sembra bellissimo per la sua inquadratura, è una delle cose che mi è rimasta più impressa, questa vignetta qui, questo controluce, il fratello e la sorella rapiti, che però in questo momento sono su una nave e quindi sono davanti a questo mare, quindi esposti al vento, esposti al vento e appunto molto molto evocativo a queste inquadrature e questa scelta dell'ombra. Chiaramente il modo di trattare i volti di Guido di Pratt è scusate il termine moderno, assolutamente iconico, assoluto, cioè tanto anni sessanta, però a me pare che rimanga ancora veramente molto moderno, ma moderno perché la leggibilità di questa storia è ancora alta, cioè ha ancora una bella capacità di intrattenere, di tenerci lì sulle pagine in un equilibrio perfetto tra avventura, un'avventura con una sua tensione e poi una bella analisi dei sentimenti dei personaggi. Ecco, quindi che cosa vogliamo di più da un fumetto non lo so, non lo so, però rimane una lettura ancora a oggi che mi svalordisce, mi svalordisce, io vi dico l'ultima la cui squiglia, questa edizione qui era l'edizione di Repubblica, questa qua, questa me la regalò un mio professore uno degli ultimi giorni prima della fine della quinta liceo e alla fine l'ho letto soltanto pochi mesi fa, l'ho rimandato un sacco di tempo ma ora lo metto tra i miei fumetti preferiti in assoluto e insomma se lo leggerete capirete anche voi perché questo libro è così bello. Va bene, anche se la luce del giorno è ancora dolcissima, io vi ringrazio e vi auguro una bella buonanotte ciccette, buonanotte ciccetti, a presto.